E finalmente è arrivato il trailer ufficiale di Angry King, nuovo gioco in arrivo di Keplerians e gli stessi sviluppatori di Ice Cream, Mr. Meat e Divo Nan Finalmente siamo qua per cominciare insieme questa grande serie, andiamo a vedere insieme questo trailer, ma come sempre lasciate così tantissimi like Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale con la campanella attiva, ma adesso direi di partire Cominciamo, tra l'altro per chi non lo sapesse, Angry King uscirà il 9 giugno, quindi fra poche settimane E fra poco, visto che andiamo già verso fine maggio, è 9 giugno, è praticamente nella prima metà di giugno E io non vedo l'ora di cominciare questa nuova serie, va bene Allora, vediamo per la prima volta questo trailer, e inizialmente lo guardiamo soltanto Poi dopo facciamo un'analisi bella approfondita, intanto lì, Re Richard che si è seduto, che mangia il progettone Eccolo qua, c'era una volta un tiranno che regnava sulla sua gente, li trattava anche molto molto male E perché Re Richard era un re molto cattivo, ma intanto guardate, questi sono proprio minuti del gameplay, eh Ok, eccolo qua, Leonard Goodfellow, che sarebbe il giullare di Cort, ha deciso appunto di mettere ridicolo il re per bendicarsi E qui possiamo proprio notare alcuni minuti, no, del gioco, eh, questa roba ufficiale, eh, non è fan made, è proprio roba vera dello sviluppatore Ma cosa? Il re che si è svegliato, tutto quanto arrabbiato, e quello è Enzo, il corvo del re Beh, dai, devo dire che comunque la mappa sembra bella grande, no! Quello quando la guardia ci prende, catapulta! Uh, cos'è? Un sontuoso trono per i miei quarti posteriori reali, da cui osservo come lavorano i miei sudditi Ma intanto... no! Bellissima sta scena, praticamente gli abbiamo fatto lo scherzo di mettere il trono sulla catapulta Ma che roba! Ora, io non vorrei dire, però me sto gioco ricorda tanto Scary Teacher Pure penso che molti di voi abbiano pensato la stessa cosa, sempre ho visto fra Scary Teacher, Dark Riddle 2 Dove bisogna fare gli scherzi, no? Io spero soltanto che non sia a livelli, perché se no, sia a livelli, no, dai, vabbè Vediamo che cosa riuscirà fuori, fatto sta che comunque il 9 giugno potremo scaricare questo nuovo gioco di Keplerians E scoprire tutti quanti i segreti Tra l'altro, ecco, mi piacerebbe fare una serie dove andremo proprio a vedere tutti quanti i segreti nascosti all'interno di questo gioco E chissà, i vari collegamenti con le altre serie di Keplerians, come ad esempio Ice Cream, Mr. Meat e Evil Nun Infatti sappiamo che quei tre giochi sono collegati tra di loro E Angry King, che collegamento potrebbe avere? Mmm, non lo so, magari lo potremmo scoprire più avanti, no? Ma nel frattempo, rivediamo un attimo il trailer, questa volta però più dettagliatamente Ad esempio qui, possiamo notare Richard, il re, che si siede sul suo trono per comandare i suoi sudditi Ma poi, guardate bene una cosa, il re qua, tiene in mano sempre questo scettro Questo scettro potrebbe nascondere qualche segreto, potrebbe avere qualche potere particolare No, perché comunque lo tiene sempre in mano, fra poco lo vediamo pure, che lo tiene in mano anche mentre dorme Pure mentre dorme, continua a tenere in mano sto scettro Mmm, vediamo, proseguiamo Va Poi qua, no, vabbè Ecco, qua invece non lo tiene in mano, perché giustamente Puoi mangiarsi sti prosciuttori Che poi tra l'altro abbiamo pure scoperto una cosa Che qua ci sarà uno scherzo, dove dobbiamo, non lo so, far marcire il prosciutto Fargli mangiare del prosciutto Marche, in modo che poi lui se ne deve andare in bagno Però chissà, forse sarebbe bello anche nascondere le chiavi del bagno Così si tiene la cacarella per sé e non può entrare dentro il bagno a farla Eh, carone Riccardo, e te le meriti pure Ecco qui, guardate, qui ci sono proprio delle immagini Fa vedere proprio come trattava male i suoi sudditi No, questo qua è stato proprio incatenato qui, nelle catene E il re tutto quanto incattivito Che lo prende in giro, che lo insulta addirittura Ma poverino, ma dai E poi non finisce qua, perché qua c'è quest'altra immagine Innanzitutto ci vuoi vedere il castello da fuori Ma soprattutto il re Riccardo Tutto quanto incattivito Che non vede l'ora di trattare male la sua gente Ma che roba Andiamo sempre più avanti Ok, ah, tra l'altro ecco Io vorrei far vedere una cosa Questa è una schermata del gameplay Qui di lato abbiamo tipo il pulsante del re, no? Vorrei capire che cosa serve questo pulsante Tecnicamente se noi guardiamo un video possiamo sbloccare un qualcosa Non so che cosa Però tecnicamente lo potremmo fare Ma poi qui c'è tipo sta scarpa con quelle robe Cosa potrebbe mai essere? Forse sono le energie per correre Forse qua ci saranno le stesse energie come su Scary Teacher Ma spero di no Vabbè, intanto comunque abbiamo sta barra dell'energia Che potrebbe servirci, no? Per qualcosa E poi una volta che si scarica questa barra Tecnicamente potremmo vedere un video per poterla ricaricare Quindi chissà Fatemi sapere qui sotto nei commenti Secondo me cosa potrebbe essere sta roba qua Proseguiamo andiamo sempre più avanti qua No, no, ho detto proseguiamo Oh, allora Vediamo Ah, ecco qua La porta con la chiave Sì, perché noi dovremmo pure trovare delle chiavi per aprire le porte Ma intanto guardate Possiamo vedere per la prima volta il protagonista di spalle Questo uomo Questa persona con questa manta blum È Leonard Goodfellov Colui che andrà a fare gli scherzi al re Che praticamente dovrebbe essere il giullare Il famoso jester della corte Che non è lo stesso jester di Gartner Ma comunque è sempre un jester Un giullare Vediamo sempre qui E intanto guardate lì Possiamo pure vedere il castello come è fatto da fuori Chissà se ci sarà tipo un bug per uscire fuori dalla mappa La catapulta Avete visto? Intanto Ah, no, no, aspettate, aspettate Faccio vedere Come vi dicevo prima Il re continua a tenere lo scettro anche mentre sta dormendo Anche mentre dorme continua a tenere sto coso Chissà Come dicevo prima Potrebbe nascondere qualche segreto Forse il potere del re deriva da quello scettro E chissà se forse ci sarà proprio una storia Dove alla fine dobbiamo togliergli sto scettro E farlo diventare una persona normale come deve essere, no? Vabbè Andiamo sempre più avanti Qui si fa lo scherzo dove tagliamo appunto il trono Delle erbe No, no, aspettate, aspettate, aspettate Guardate qua che cosa abbiamo Abbiamo un calice Una coppa Vi ricorda qualche gioco? Ebbene sì Questa coppa magica a me ricorda tanto Ivor Nan, no? Come ben sapete, no? Su Ivor Nan c'è la coppa magica Che in passato invece era un'entità divina Che è diventata una coppa Insomma c'è tutto quanto un casino, no? Fatto sta che anche qui avremo una coppa Bisogna vedere se qui invece sarà una coppa normale O forse sarà qualcosa di misterioso Non lo so Fatemi sapere in questo sotto nei commenti Le vostre teorie A proposito di questa coppa Che tra l'altro è decorata allo stesso modo Dello scettro del re Quindi vuol dire che di roba è No, ma cosa? Aspettate, aspettate Lo voglio rivedere Speciale Con sto re Tutto quanto arrabbiato Che si mette lì a gridare Vabbè E vediamo come prosegue Uh, il corvo Enzo Io non ho capito Enzo che cosa fa Forse fa rumore Il re No, no Allora guardate bene qua Qui possiamo ammirare meglio Un po' parte della mappa del gioco Infatti a quanto pare Questa mappa sarà bella Grande Ma poi Non so se vi ci avete fatto caso Da qualche parte ci sono tipo gli stemmi De Keplerians Vediamo Qua si si vede Si quasi si vede meglio Tecnicamente questi dovrebbero essere Gli easter egg degli youtuber Guardate qua pure Ce l'hanno pure le guardie Ma che roba Vabbè Uh, aspettate Aspettate Quel pulsante del re È tutto quanto illuminato Quindi forse Vedete cosa vi fa venire in mente Forse noi dobbiamo far arrabbiare il re Il più possibile Per poi Non lo so Per completare il livello Un po' come su Stepmother Emily Che c'era tipo la barra Dell'arrabbiamento del re No, vabbè Della matrigna in quel caso Quindi chissà Forse più si va avanti Più il re diventa arrabbiato Ecco qua No No La guardia che ci ha preso Uh, la catapulta Infatti in questo scherzo Come abbiamo visto prima Dobbiamo prendere il trono Metterlo su questa catapulta Coprirlo Tutto quanto Ma il re non si è accorto Che quella è una catapulta Ma pure lui Se le va pure a cercare le cose No? Ecco qua Cos'è ciò che i miei occhi vedono? Un sontuoso trono Per i miei quarti posteriori reali Da qui osserverò come lavorano I miei sudditi Però mi sa che Bellissimo Sto scherzo Veramente molto molto bello Sì, devo dire che I prank game Sono comunque dei giochi Un po' così particolari Ma c'è da dire che Gli scherzi sono sempre divertenti No? Non mi do l'ora di provarli Qua insieme a voi Quindi vediamo qui avanti Tecnicamente Hai finito qui il trailer Perfetto Non lo so Cosa ne pensate Di questa nuova serie Sarà comunque una serie Che potrebbe avere grande successo Oppure qualcosa di temporaneo Fatemi sapere Qui sotto nei commenti E fatemi sapere Se voi avete già fatto La pre-registrazione Quindi per il momento Direi che posso venire Quel video Fatemi sapere Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Farà quando Spolliciate Che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Nel centro del video E come sempre Vi auguro Per la giornata Per la giornata Per la nata Ciao a tutti E buon per il nostro video